Criminalità organizzata e a denunciare eventuali richieste estorsive. La lotta alla Camorra e lo sviluppo della cultura della legalità nei comuni vesuviani passano anche attraverso iniziative del genere. E così, dopo i comuni di Ercolano e San Sebastiano al Vesuvio, anche l'amministrazione comunale di Torre del Greco scende in campo con un provvedimento rivolto a chi denuncia il racket. Una misura straordinaria approvata nelle scorse ore dall'Aggiunta Torrese guidata dal sindaco Ciro Borriello che prevede l'esenzione dalle tasse comunali per 5 anni per tutti i cittadini che denunceranno i propri strozzini. È un provvedimento importante, concreto, che testimonia l'impegno dell'amministrazione del sindaco Borriello, dell'Aggiunta, che vuole mettere in campo atti, gesti concreti davanti a questi vergognosi atti che sono quelli del racket, dell'usura. In questa ottica è una delle tante attività messe in campo dal Comune su questo aspetto e che purtroppo sono condizioni che spesso incidono su questo territorio. Io voglio ricordare già l'incontro che si è tenuto nel momento in cui c'è stato un attentato gravissimo ad alcuni negozi, alcuni commercianti, imprenditori, e in quel momento tutta l'amministrazione, tutto il Consiglio si fece partecipe con un Consiglio ad hoc specifico, con enti sovracomunali, con i preposti responsabili della Prefettura, della Questura, dei Carabinieri, delle Forze dell'Ordine. Questo provvedimento è quello concreto che prende in esame l'esonero dai tributi dovuti all'ente comunale di chi, di coloro che denunziano e che poi ci sia un provvedimento di condanna, almeno di primo grado, e in tal senso tutti quegli tributi che sono dovuti all'ente sono esonerati. Quindi spieghiamo l'iter. Un commerciante torrese denuncia l'essorsione subita alle autorità. Si deve attendere il primo grado, dopodiché è il Comune ad incontrare il commerciante e a propogli questa esenzione. Esattamente sì, deve esserci la condanna, altrimenti io posso condannare, denunziare uno qualsiasi, però non c'è riscontro, insomma. Questo testimonia all'atto avvenuto, concreto, è che c'è una condanna.